Buongiorno Davido, oggi mega puntata su Linux per la mega release di KDE Plasma 6 e in realtà anche di qualche altra cosetta quindi parleremo di KDE Plasma per vedere un po' quali sono le novità che KDE ha portato in questa nuova mega release la chiamano proprio così e poi andiamo a vedere anche Gnome, ma Gnome arriva fra un mesetto quindi lo metto giusto per dare qualche info anche per gli utenti di Gnome, insomma per vedere su che cosa stanno lavorando per Gnome 46 quindi andremo a vedere, poi qualche altra piccola news, una farà arrabbiare abbastanza quindi non ho molto da dire neanche in intro, vi do soltanto due annuncini uno, la settimana prossima, anzi tre, uno, la settimana prossima, martedì, ci sarà naturalmente la puntata regolare di Continuous Delivery ma sarà un po' speciale, un po' diversa dal solito, non vi anticipo troppo ma sappiate che non ritroverete il classico studio con noi che parliamo con qualcuno ma ci troverete da un'altra parte e in compagnia di qualcuno di speciale quindi io ve lo dico, segnatevelo, secondo me è interessante poi il 7 e l'8 marzo sarò a Firenze a Nana Bianca per l'Open Source Day avrò un talk l'8, quindi venerdì nel pomeriggio mi pare parlerò di WebAssembly e per il resto del tempo naturalmente starò a guardare gli altri colleghi e fare qualche chiacchiera quindi se siete lì, se siete all'Open Source Day insomma ci possiamo fare, bere una birretta, fare qualche parola insomma questa è e ultima cosa come ho scritto ieri su LinkedIn che ormai volente o nolenti è il nostro social network e ho scritto che farò delle live, delle sessioni appunto in diretta magari a cadenza fissa dovrebbe essere forse per facilitare la partecipazione ecco, in cui leggiamo un po' delle news che non sono entrate nel buongiornissimo o che magari entreranno così le leggiamo insieme, le commentiamo un po' vediamo cos'è qualche collegamento che può avvenire tra le varie news quello che poi cerco di fare io per le puntate però magari lo facciamo insieme in una sessione di un'oretta se siete interessati a approfondire un pochino di più leggiamo qualcosa magari anche articoli non esattamente di attualità ma magari articoli di opinione li leggiamo insieme andiamo a vedere cosa potrebbe essere di frizzante ecco, da commentare, da approfondire ecco, magari queste cose qua le potrei fare in pausa pranzo oppure dopo le 18 devo ancora un po' vedere potrei anche decidere così come colpo di testa di andare a fare una prova oggi intorno all'una e mezza ma non lo so ancora perché non so neanche come si fa devo provare a vedere perché le live di Continuous Delivery le segue Claudio e non sono io quindi imposterò la cosa andrò a fare questo esperimento se vi va, insomma, le potete seguire poi commenteremo insieme, insomma, le news che andrò a leggere basta davvero andiamo a vedere KDE Plasma 6 e poi le altre news della giornatona allora eccoci qua, come dicevo KDE Mega Release 6 ecco la nuova Mega Release di KDE Plasma non solo, anche di Frameworks e di Gear e, insomma, è arrivato Plasma 6, naturalmente è un bel po' che era in così, in ebollizione, no? quindi lo aspettavamo e ora è arrivato ci sono, secondo questo, questo è il post ufficiale sul sito di KDE.org quindi l'annuncio di Mega Release 6 che è arrivato ieri, 28 febbraio ebbene, Plasma, naturalmente, è il desktop environment di KDE sapete che KDE non è più il KDE desktop ma KDE è una suite di tool tra cui il desktop environment che si chiama Plasma che c'è anche Plasma Mobile tra l'altro ha anche un aggiornamento Plasma Mobile, poi dopo lo vedremo e, insomma, Plasma 6 è arrivato c'ha due grandi upgrade ecco, cioè che ora utilizza l'ultima versione di QT che è, naturalmente, l'application framework di KDE e che sotto il cofano utilizza Wayland quindi non più X11 ma Wayland di default questi cambiamenti per un utente di KDE Plasma che fa l'aggiornamento automatico non dovrebbero essere particolarmente visibili nel senso che non dovrebbe notare grossi cambiamenti nel visivo o nell'esperienza d'uso però in realtà rendono il tutto più veloce più smooth, ecco e anche con alcuni piccoli cambiamenti piccoli dettagli grafici che rendono l'esperienza migliore quindi, una volta che si installa l'aggiornamento insomma, il desktop rimane lo stesso gli aggiornamenti più grossi più corposi sono proprio sotto il cofano naturalmente, se siete utenti X11 e volete rimanere utenti X11 rimarrete utenti X11 insomma, l'opzione c'è ancora per le nuove installazioni Wayland di default ma per chi rimane ancorato al passato con Xorg insomma, si può rimanere su Xorg vado a vedere un po' di caratteristiche di quelle principali che appunto elenca il post c'è questo nuovo effetto overview per chi sta guardando starà anche vedendo questa demo questa blog post blog post, in realtà lo chiamo blog post ma, insomma, l'annuncio su istituto ufficiale è molto ben fatto perché ha vari screenshot e anche varie animazioni insomma, fa vedere il desktop in movimento così vi rendete conto di quali sono le nuove capacità potenzialità grafiche di Plasma e vedete questa che è la overview effect cioè, quando volete fare l'overview delle applicazioni aperte sul desktop ecco, adesso ha questo nuovo effetto molto macOS-like, diciamo vi fa vedere tutti i vostri workspace e le applicazioni aperte su un certo desktop e quindi potete passare da un workspace all'altro e avere questa visione, insomma, complessiva sia del desktop corrente che di tutti gli altri con un effetto 3D insomma, accelerato graficamente anche molto carino naturalmente è molto impostato verso il touchpad quindi se siete abituati per esempio con le gesture di macOS questo ha la possibilità di andare in quella direzione quindi vi dà quel tipo di esperienza molto carino poi c'è un supporto avanzato per i colori cosa vuol dire? che Wayland ha introdotto un supporto parziale ancora per l'HDR e quindi anche Plasma va a supportare questo qui non è esplicitato però naturalmente gran parte di questo effort è finalizzato alla compatibilità massima con i videogiochi e sapete che con Steam Deck e quindi con l'ingresso di Valve potentemente anche tra i finanziatori e tra quelli che contribuiscono di più alla KDE ecco che insomma il supporto all'HDR diventa molto importante quindi è arrivato un primo supporto per l'HDR quindi i colori saranno ancora migliori inoltre ci sono nuovi filtri per il daltonismo quindi ci sono alcune opzioni di accessibilità anche sui colori ci sono naturalmente nuovi wallpaper il wallpaper di default è questo Scarlet Tree di Axo 1 Otl o Axolotl non so come si pronuncia comunque è scritto così Axo 1 Otl questo è l'autore del wallpaper c'è in versione giorno in versione notte insomma è un wallpaper disegnato a mano e poi come piccola chicca grafica cambiamento grafico sul display sullo schermo appunto sullo sfondo il pannello quello la barra delle applicazioni in basso è flottante cioè non è ancorato ai bordi della finestra ma fluttua un pochino questo comportamento è il default ma può essere cambiato ci sono delle impostazioni che vi permettono di modificare la sua posizione la sua visibilità la sua opacità il suo stile e tra l'altro come impostazioni di default quando gli si avvicinano le finestre quando vanno a schiacciarsi verso il pannello e quel pannello può scomparire e quindi rendere le finestre insomma più visibili a tutto schermo queste sono tutte impostazioni di default del pannello ma poi possono essere cambiate a proposito di default Plasma 6 ha naturalmente molti nuovi setting default appunto che poi però possono essere twickati a seconda delle preferenze per esempio tra i cambiamenti maggiori insomma nella UX di default adesso i file e le cartelle possono essere sono selezionate con un single click quindi a un single click selezionate file e cartelle per aprirle bisogna fare il double click questo è il comportamento ora di default poi il tap to click quindi un singolo tap sul touchpad adesso è un click questo è il comportamento default su Wayland e naturalmente Wayland è la sessione grafica di default Breeze che è il tema grafico delle finestre KDE è stato migliorato insomma devo dire non è che sia immediatamente visibile l'aggiornamento di Breeze qua sull'annuncio c'è un comparatore dove vedete la vecchia versione di Breeze e la nuova versione di Breeze su varie app come Kate o Kate Torrent allora diciamo che la differenza non è che sia proprio immediatamente visibile ci sono però alcuni piccoli miglioramenti che lo rendono un pochino più fresco un pochino più moderno però insomma non è che ci sia una rivoluzione più o meno ecco Breeze rimane il solito Breeze con qualche piccolo piccolo aggiustamento ecco poi le impostazioni sono state riorganizzate quindi Settings l'app per i settaggi di sistema appunto è un pochino più user friendly e anche ha meno pagine innestate quindi anche la navigazione è un pochino più fluida un pochino più carina quindi il nuovo Settings Page ecco è questo revampato questo è un cambiamento che solletticherà molto soprattutto i nostalgici di Compiz è tornato il cubo il cubo is back così lo chiama l'annuncio il cubo di desktop naturalmente quindi quello che quando volete passare da un desktop all'altro da un workspace all'altro vi crea questo cubo in cui a ogni lato esterno stampa uno di desktop e poi si può ruotare il cubo per passare da un desktop all'altro ecco questo effetto che era stato tolto un paio di anni fa adesso in Kwin è tornato quindi potete switchare i desktop con l'effetto cubo che naturalmente è molto utile per flexare le capacità grafiche del vostro desktop con i colleghi poco utile nella vita reale devo dire la verità dopo pochi utilizzi ci si stanca e lo si disattiva però insomma flexare è anche sempre una cosa piacevole quindi se volete potete anche flexare il cubo di Kwin con amici e parenti al pranzo della domenica poi vabbè nuove feature su Plasma Search Plasma Search adesso è molto più veloce 200% più veloce vabbè sempre numeri numeri che fanno girare la testa poi qualche ulteriore aggiustamento c'è un un unlock via impronte digitali dal lock screen che ora è migliorato e possono essere abilitati contemporaneamente la password e le impronte digitali quindi nel nostro schermo potete loggarvi sia con password che con impronte digitali senza dover scegliere o una o l'altra sono entrambe attive allo stesso momento poi come vi dicevo c'è Plasma Mobile con la nuova versione di Plasma Mobile con alcuni anzi con parecchi miglioramenti devo dire Plasma Mobile è molto bello da vedere anche un po' le animazioni in generale insomma il look and feel la UX è molto carino io l'ho visto dal vivo diciamo su uno smartphone al Fosdem c'era lì uno sviluppatore di KD e Plasma che faceva delle piccole demos ma ce l'ha fatto vedere devo dire non so se sia davvero utilizzabile in un contesto di produzione mettiamola così se potrebbe diventare il vostro sistema mobile primario perché ho visto che tende a crashare parecchio e anche alcune cose non sono esattamente questa demo qua che si vede sul desktop che si vede sul sito di KD è un po' cherry picked nel mondo reale probabilmente ancora ha dei problemi però devo dire che l'impatto estetico è molto figo quindi la direzione è quella giusta e comunque kudos al team di Plasma Mobile che è riuscito a creare un desktop per smartphone che non deve essere proprio esattamente semplice poi naturalmente un po' di miglioramenti alle applicazioni quindi con KD Gear 24.02 ci sono naturalmente un porting di molte applicazioni a QT 6 appunto la nuova versione di QT e quindi oltre ai cambiamenti che abbiamo visto in Breeze in generale il look and feel di molte applicazioni ora è rinnovato per quanto riguarda invece altre applicazioni della suite insomma di KDE Contact l'applicazione è quella con le email ha una serie di improvement relative alla sicurezza e alla privacy quindi per esempio leggendo una mail in Kmail vi rimuoverà gli ad dalla mail e anche i tracking dai vari link questo con un tool scritto in Rust ci tengo a sottolinearlo ecco che vi migliora questo aspetto poi per esempio anche KOrganizer vi consente di mandare delle email crittate e firmate insomma delle invitation ecco email crittate e firmate poi Kmail supporta adesso alcune capacità di AI offline quindi per esempio c'ha le traduzioni le traduzioni le stesse che usa Firefox come traduzioni offline cioè quelle basate sul modello Bergamot che non è Bergamo no non è il Bergamotto credo che sia il Bergamotto non la città e poi puoi usare l'engine Vosk API per fare la conversione speech to text queste funzioni di AI che sono comunque offline ma sono disabilitate di default quindi se le volete le potete abilitare esplicitamente nei setting di Kmail poi ci sono che non ci interessano in itinerary c'è KPD Education con naturalmente l'update di molte app AQT6 però insomma non mi interessano tantissimo poi c'è anche qualche piccola novità in KDE Live KDE Live è l'editor di video di KDE che tra l'altro devo dire che è molto buono è l'editor che io usavo inizialmente quando editavo questo podcast poi adesso sono passato a DaVinci per alcuni motivi però insomma KDE Live è un ottimo editor di tutto open source e quindi c'è anche qualche cambiamento qualche aggiornamento a KDE Live per esempio ora si può fare il replace di un file audio o video direttamente nella timeline quindi per esempio voi potete mentre state editando decidere di editare un pezzo audio per esempio in un'altra applicazione esterna e poi con lo stesso file sostituendolo nella timeline ecco vi mantiene la stessa timeline ma con il file sostituito magari migliorato da un'altra app esterna e poi ci sono nuove feature per i sottotitoli quindi potete mettere più sottotitoli più tracce di sottotitoli nella stessa traccia che è un buon improvement questo quindi per quanto riguarda KDE NLive poi naturalmente anche alcuni miglioramenti in Dolphin che è il file manager di KDE c'è un redesign insomma un po' generale di Dolphin quindi ora è molto più pulito molto più carino e ci sono nuovi settaggi quindi nella parte di settaggi ci sono degli improvement sono anche meglio organizzati degli improvement di accessibilità e poi la cosa che secondo me è più figa di tutte potete fare un click con il destro su una cartella e decidere di aprirla in una split view quindi vi si splitta a metà la finestra di Dolphin e vi si apre la cartella che state decidendo di aprire nella vista splittata di uno dei due lati questo è molto comodo appunto per avere lo split un po' come avviene nel file manager di macOS quindi avere questa vista splittata del file system è molto comodo senza dover aprire ulteriori finestre bene poi altre novità sugli screen share c'è NeoChat che è il client Matrix di KDE quindi se siete utenti di Matrix avete la possibilità di usare la nuova versione di NeoChat con una welcome page che vi permette di loggarvi sul vostro server e tra l'altro anche la nuova feature degli spaces di Matrix ora è ben organizzata dentro NeoChat e anche PlasmaTube che è il client YouTube di KDE ci interessa poco però sapete che ci sono miglioramenti anche lì c'è Tokodon che è il client per Mastodon di KDE ci sono novità naturalmente grafiche ma anche un po' di impostazioni di UX insomma se siete su KDE e volete stare su Mastodon Tokodon potrebbe essere una buona idea per avere un'esperienza nativa poi c'è Kate per gli sviluppatori insomma l'ide integrato per gli sviluppatori miglioramenti anche a console e Yakwake che io ho sempre pronunciato Yakwake però magari si pronuncia Yakwake non lo so Yakwake insomma le console di KDE e poi c'è naturalmente molto di più KClock KDE Connect Cast Podcast Player Elisa vabbè bla 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 un botto di roba naturalmente si conclude questo annuncio ricordandoci che KDE è un progetto di community è un progetto open source ed è un progetto creato da volontari in realtà non sono volontari sono pagati ma è la fondazione che li paga quindi non vende prodotti ma paga appunto questi sviluppatori molti di questi sviluppatori per lavorare questi progetti che poi rilascia open source quindi se volete supportare il progetto ecco potete andare a fare una donazione a KDE con questa widget che c'è in fondo al post quindi insomma supportate questi progetti open source molto impegnativi da realizzare perché insomma avete visto quanti tool compongono una singola suite che è quella di KDE e insomma potete dare una mano anche a questi progetti open source sostenendo il progetto o su Plasma 6 non credo che ci sia molto altro da dire ho letto anche il blog post di OMG Ubuntu che fondamentalmente riepiloga le stesse cose che abbiamo già visto più da una sua versione diciamo una sua piccola review basata sul suo uso personale se l'ha scaricato se l'ha guardato MG Ubuntu e ci dà una piccola review quindi naturalmente ci ricorda che come ha detto l'annuncio tutti questi aggiornamenti sotto il cofano non cambiano più di tanto l'esperienza complessiva quindi se siete abituati a KDE rimarrete con più o meno la stessa esperienza non è una rivoluzione che vi destabilizza rimane più o meno la stessa cosa però si notano molti miglioramenti a livello di performance quindi il desktop è più responsivo è tutto più veloce quindi Wayland ha portato cambiamenti in questa direzione proprio in quello delle performance di uso quindi Wayland è la strada la strada giusta e poi insomma se volete approfondire vi consiglio di andare a leggere anche la recensione diciamo di OMG Ubuntu mi sono letto anche quella di Itzfoss qua si parla di una cosa che sull'annuncio magari è poco evidenziata cioè che adesso ci sono i temi audio cioè si può andare a switchare nelle impostazioni di sistema nei system sounds e lì si possono cambiare ci sono tre temi sono Ocean Oxygen e Free Desktop sono proprio temi audio con diversi suoni tra l'altro dice che Ocean è molto bello ma non ha trovato modo di aggiungere nuovi temi o magari creare temi custom ecco però dice non so se potrebbe magari essere una cosa che è un po' nascosta ma si può fare o magari verrà abilitata nelle prossime release e insomma tra gli altri improvement che non abbiamo citato per questione di tempo ci sono delle piccole animazioni in Dolphin quando si trascina un file sopra una cartella se va a vedere la cartella che si apre una piccola animazione c'è una riduzione dell'uso di memoria in KpipeWire quando si fa screen record ah questa poi è molto carina quando si collega un headset bluetooth e si abbassa o si alza il volume proprio dell'headset su Plasma ora si vede il widget che indica il volume dell'headset e anche lo stato della batteria quindi molto carino e più una migliore compatibilità di Kwin per lo screencast con le GPU di Nvidia oltre a vari fix per KDE Framework 5 quindi naturalmente adesso come farete a provare KDE Plasma 6 naturalmente potete scaricarlo dai vostri repo non sarà come dice OMG Ubuntu in Ubuntu 24.04 che esce in aprile potrebbe arrivare nel 24.10 che esce in ottobre ma se siete su KDE Neon che è appunto la distribuzione basata su Ubuntu potete aggiornare già da oggi a Plasma 6 o scaricarvi le nuove ISO ma poi naturalmente quelle distribuzioni che hanno un rolling release dovrebbero darvi Plasma già disponibile da subito quindi se volete provarlo ve lo scaricate e ve lo aggiornate e questo era KDE Plasma ora abbiamo detto che facciamo un rapido escursus anche su Gnome facciamolo siamo su It's Force andiamo a vedere quali saranno le novità di Gnome 46 che esce a marzo il 20 marzo del 2024 c'è una beta version disponibile per il download quindi se volete provarla potete provare la beta dice It's Force che più o meno il look and feel del desktop rimane lo stesso della versione attuale ci sono alcuni piccoli cambiamenti per esempio in Files che era Nautilus il file manager ora ha migliorato le funzioni di ricerca per esempio c'è una c'è una nuova icona di ricerca che è in alto a sinistra ecco quell'icona lì si attiva una ricerca globale su tutto il file system rimane la barra di ricerca in alto sopra la cartella quella cerca nella cartella attuale mentre la ricerca in alto a sinistra quella cerca su tutto il file system e anche questa nuova e anche la ricerca insomma ha un generale miglioramento del look and feel poi abbiamo nuove preferenze per esempio adesso c'è un nuovo settaggio system per il sistema quindi raggruppa un po' di impostazioni per esempio user date and time region and language sono organizzate meglio nella nuova entry system nei settings e poi è stato rinominato la entry privacy è stata rinominata in privacy and security e quindi raggruppa un po' anche le impostazioni di security del sistema c'è un piccolo cambiamento anche alla gestione degli account online adesso non è più incluso nel setup iniziale della distribuzione che include Gnome ma deve essere affatto successivamente proprio dai setting di sistema di Gnome è possibile quindi andare nei setting accedere alla parte degli account online e poi loggarsi con uno di questi account che quindi vi apre il browser e vi fa l'autenticazione insomma o out con il browser questo lo rende più sicuro naturalmente perché poi se avete la due fattori insomma è più comodo da attivare quindi migliora anche l'aspetto della security di questo ci sono qualche miglioramento naturalmente anche nelle applicazioni di Gnome come in Gnome Maps se usate Maps e anche nel look and feel delle notification quindi adesso le notification a schermo mostrano anche il nome delle applicazioni a cui si riferiscono e quindi rendono un pochino più comode ci sono nuovi wall taper ci interessano magari poco però insomma ci sono più altri piccoli cambiamenti tecnici per esempio improvement alle performance di Matter Matter è il window manager di Gnome quindi qua ci sono dei miglioramenti alle performance miglioramenti anche al fingerprint all'uso della memoria quindi hanno migliorato anche l'uso della memoria delle applicazioni c'è un nuovo render per GTK per con il supporto nativo al fractional scaling il fractional scaling sarebbe sapete lo scaling del desktop no potete farlo 1x2x3x ebbene il fractional è appunto frazioni di questi scaling quindi 1,1 1,2 ecco questo è il fractional scaling ora supportato da GTK Gnome 46 non è disponibile ecco nelle distribuzioni perché naturalmente deve ancora uscire quindi potete testarlo con Gnome OS oppure con le Nightly Builds di Fedora 40 sono andato a vedere anche qualche commento da The Register tra l'altro l'ho fatto tradurre questo news con il traduttore di Firefox giusto per vedere la qualità della traduzione insomma ci siamo abbastanza ma non è che sia straordinaria quindi bisogna un po' interpretare comunque non c'è come dice The Register su Gnome 46 un elenco drammatico di aggiornamenti non so se drammatico è la traduzione corretta però questo è quello che mi da Firefox e insomma c'è ancora naturalmente l'onda lunga dei cambiamenti di Gnome 40 quindi tutto si sta stabilizzando ci sono cambiamenti incrementali Gnome 40 introdusse la versione 4 di GTK e naturalmente il controverso sistema di temi di Gnome la nuova funzionalità chiave per alcune distribuzioni è che in GDM Gnome Display Manager ora c'è la possibilità di attivare l'accesso remoto con Remote Desktop , senza avere uno schermo quindi anche uno computer che non ha lo schermo attaccato il computer host senza schermo attaccato si può attivare una sessione di Remote Desktop questo potrebbe essere molto comodo con le GPU NVIDIA come abbiamo visto Files che è la vecchia Nautilus è quello che comporta il maggior numero di cambiamenti ci sono diverse accelerazioni nelle performance per esempio nel passaggio da una vista all'altra tipo da elenco dettagliato a icone nella vista di una folder di una directory questo è più veloce perché non c'è più il ricaricamento dell'intera directory in background come avveniva prima e poi è anche possibile aprire le proprietà di più file contemporaneamente c'è come abbiamo visto un nuovo sistema di ricerca integrato e poi quando si imposta una password in un archivio in un archivio compresso ora bisogna inserirla una seconda volta per conferma un piccolo tweak di sicurezza c'è una migliore gestione del wifi tra cui la condivisione della password non ho visto come funziona però sembra interessante un miglioramento ai tablet Wacom ecco ai sistemi di tablet di Wacom e migliore gestione delle impostazioni di mouse e trackpad miglioramenti anche al gestore dei pacchetti c'è un badge verificato per i pacchetti flat pack e supporta ora direttamente open sus e leap può anche gestire gli aggiornamenti di sistema come abbiamo visto quindi fedora 40 in nightly build se volete testarlo e dovrebbe questo poi essere il desktop predefinito di ubuntu 24.04 ma non lo sappiamo non è stato ancora annunciato insomma però se fosse così insomma questa GNOME 46 sarà la versione definitiva di GNOME che molti utenti vedranno nella LTS di ubuntu quindi per i prossimi anni bene ci lasciamo alle spalle desktop environment guardiamo una news che riguarda invece una distribuzione una distribuzione che è abbastanza nota però è usata soprattutto dagli addetti ai lavori diciamo che è Kali Linux Kali Linux è diciamo una distribuzione pensata per la security per quelli che devono per gli esperti di sicurezza insomma per gli esperti di cyber security quelli che devono fare pen testing cyber security classica no cappuccio sono dentro nei film l'avevo già detta questa battuta va bene e insomma cosa ci porta Kali Linux in versione 2024.1 che è la prima versione del 2024 dei nuovi tool naturalmente un nuovo toolbox un refresh del tema alcuni cambiamenti nei desktop come è tipico per la prima versione dell'anno in Kali Linux ci sono anche cambiamenti visivi visuali tra cui nuovi wallpaper e dei miglioramenti dei cambiamenti estetici al boot menu e al login cosa sono i nuovi tool che abbiamo in Kali Linux c'è Blue Hydra che è un servizio di discovery di device bluetooth Open Taxi che è l'implementazione del server taxi di Electric IQ non so cosa sia poi c'è Redpe spero che si pronunci così Redpe che è un tool a command line per manipolare i file Windows PE non so cosa siano e infine c'è Snort che è la Flexible Network Intrusion Detection System se sapete cos'è fatemelo sapere in aggiunta a questo Kali ha aggiornato il kernel alla versione 6.6 spero che scippino la versione 6.6.6 una bella Kali Linux con il kernel 6.6.6 sarebbe fantastico però insomma l'abbiamo già superata la 6.6.6 quindi immagino che scipperanno l'ultima patch version e non la 6.6.6 peccato potrebbe essere potrebbe essere divertente naturalmente refresh al tema come abbiamo visto quindi nuovi elementi visuali nuovo wallpaper eccolo qua se state guardando questo è un nuovo wallpaper di default di Kali Linux molto carino con il suo dragone ecco che vola questi wallpaper sono i nuovi colori Nord e Dracula ci sono nuove feature anche in Xfce e Gnome Desktop i due desktop di default di Kali Linux per gli utenti di Xfce che usano Xclip ora si può copiare l'indirizzo della VPN l'indirizzo IP della VPN nella clipboard quindi per essere per avere subito l'indirizzo in clipboard disponibile e invece insomma un piccolo cambiamento nell'image viewer di Gnome quindi questa era Kali Linux 2024.1 se volete ci sono le ISO image già disponibili altrimenti potete fare il solito aggiornamento da command line e ora in ultimo in questa puntatona vi do conto di una notizia spiacevole nel mondo nel panorama open source perché l'HDMI Forum che è quello che gestisce lo standard HDMI ha respinto la proposta di AMD di un driver open source che implementi HDMI 2.1 infatti ci dice Foronix una delle limitazioni più grandi dei driver open source di AMD era l'impossibilità di implementare la funzionalità HDMI 2.1 più perché questo non è possibile proprio per i requisiti illegali dell'HDMI Forum ora negli ultimi mesi gli ingegneri di AMD hanno lavorato per arrivare a una soluzione proprio lavorando insieme all'HDMI Forum per arrivare a offrire queste feature dello standard 2.1 nel kernel driver open source di AMD ma a questo punto invece si è arrivati a un fallimento totale HDMI Forum ha rigettato ha respinto questa implementazione e si parla di bug presenti da almeno tre anni tipo l'impossibilità di usare il 4K a 120Hz via HDMI 2.1 o anche il 5K a 240Hz sempre sui driver AMD e via HDMI come si sa almeno dal 2021 l'HDMI Forum ha bloccato l'implementazione in driver open source delle specifiche di HDMI 2.1 nonostante gli effort di AMD e della Xorg Foundation per arrivare a una soluzione ecco non è possibile farlo le specifiche sono private e rimarranno così e gli ingegneri di AMD Linux hanno provato a lavorare per mesi questo è il report degli stessi ingegneri di AMD per anche insieme al team legal per capire come poter inserire queste feature in un driver open source senza rompere eccessivamente i requisiti illegali ma evidentemente proprio non ce l'hanno fatta il forum Academy ha deciso di smetterla e c'è un engineer di AMD proprio che si chiama Alex Deucer che ha proprio commentato sul ticket dicendo che la proposta è stata rigettata e quindi non è possibile implementare questi requirement punto questo è purtroppo la triste realtà apparentemente quindi non avremo mai se le cose stanno così un'implementazione open source di Academy 2.1 più funziona così bisogna andare su DisplayPort quindi se siete utenti Linux che vogliono avere il massimo dai propri driver grafici dovete andare su DisplayPort HDMI non è disponibile tra l'altro si sa anche proprio da fonti interne che gli ingegneri di AMD hanno lavorato per mesi e hanno un prototipo funzionante di questi driver con l'implementazione di Academy 2.1 questa roba c'è e funziona soltanto che non la possiamo usare perché il forum ne impedisce la pubblicazione questo funziona così grande disappunto pessimi Academy Forum spero che questa roba gli si ritorca contro e che tutti vadano verso DisplayPort e HDMI possa dire addio al suo standard vi lascio due link freschi freschi in conclusione il primo è why I use Firefox lo trovate su un sito che vi lascio in descrizione non ve lo leggo perché non saprei leggerlo e questo è un posto di opinione naturalmente sul perché questo sviluppatore utilizza nel suo proprio day to day Firefox per vari motivi li elenca tipo le impostazioni che può personalizzare nella pagina About Config la fiducia verso Mozilla che non vada a decrittare i dati scambiati con Firefox Sync e altre feature interessanti di Firefox oltre alla volontà di preservare Gecko come browser engine per avere una diversità di engine nell'ecosistema è un post carino insomma secondo me è una lettura breve tra l'altro che consiglio di fare why I use Firefox poi vi lascio il link e l'ultimo questo è un'avventura una disavventura antica apparsa su Reddit poi è arrivata anche su Hacker News si intitola così Netlify just sent me a 104k bill for a simple static site l'avrete capito insomma quest'utente ha fatto un sito statico su Netlify pagava fisso ogni mese era nel tier più basso a un certo punto gli è arrivata una fattura in un mese da 104.000 dollari e quindi lui si è trovato a questa roba da pagare ha contattato il team di Netlify gli hanno detto che c'era stato probabilmente un attacco di DOS al suo sito per scaricare degli mp3 e quindi siccome ti fanno pagare i dati in uscita il bill è arrivato a 104.000 però l'ingegnere di Netlify subito con cui ha parlato gli ha detto che c'è un accordo che si fa con gli utenti in casi come questo in cui il bill viene scontato al 20% ma che poi nel suo caso specifico come proprio gesto di distensione gli verrà scontato al 5% che sono comunque più di 5.000 dollari che rimane comunque una cifra consistente bene dopo che la news è arrivata nella viralità di Hacker News anche Netlify ha risposto ufficialmente e ha detto no ma questa non devi pagare niente anzi noi stiamo facendo roll out di nuove policy perché casi come questi insomma non debbano mai essere pagati però sono anni che andiamo avanti con casi come questi non tutti arrivano all'onore delle cronache quindi alcuni pagano di nascosto soffrendo per questa situazione e Netlify e altri come Netlify insomma un po' ci marciano sopra se volete avere tutto il quadro di questa situazione su Reddit il link ve lo metto in descrizione Netlify just sent me a 104k bill for a simple static site e io ho finito qui grazie per avermi seguito non so se da mattina ci vedremo ma ci vedremo sicuramente la settimana prossima quindi fate i bravi eventualmente anche passate un buon weekend mangiate le vostre verdure e anche bevete responsabilmente alla prossima ciao